Musica Ben trovati a tutti i nostri telespettatori di Provincia TV con il nostro spazio dedicato ai messaggi elettorali a pagamento. Con noi Andrea Pierfederici, candidato al Consiglio Comunale nella lista Moscherini. Buonasera. Buonasera a tutti. Ecco, partiamo immediatamente da un dato ormai imminente. Si aprirà a breve la campagna elettorale del candidato al Consiglio Comunale. Sì, è tutto pronto per il 2 di aprile, giorno in cui ovviamente darò vita appunto a un incontro pubblico e colgo l'occasione per invitare tutti. Presso il locale Allitrovo, la zona industriale di Civitavecchia e praticamente in questa occasione avrò il piacere dal cospetto del sindaco Giovanni Moscherini e del senatore Stefano De Lillo di poter presentare appunto agli ospiti che vorranno prendere parte da questo avvenimento quello che è stato un po' il percorso che mi ha portato fino ad oggi a rappresentare la città nelle deleghe appunto conferite nel sindaco e quello che sarà ovviamente il percorso futuro che vorrei intraprendere qualora il pubblico mi darà appunto l'opportunità per poter continuare questa avventura politica. E parlando proprio del suo assessorato, quello all'interno dell'amministrazione Moscherini, ricordando che ne fa parte soltanto da circa due anni e mezzo, l'assessore che bilancio può trarre? Ma io credo che innanzitutto debbano essere i cittadini ad esprimere un giudizio, poi in merito a quello che io ho cercato di fare, che spero di aver fatto bene in questi due anni e mezzo ovviamente da assessore, ma ovviamente ciò che voglio fare è presentare alla città la continuità appunto e dare seguito e portare a conclusioni quelle opere che comunque ho iniziato e tutti i procedimenti che ho seguito in questi due anni e mezzo. Ovviamente il mio è stato un percorso abbastanza complesso, ho seguito tante situazioni e ho dovuto confrontarmi, soprattutto a seguito della delega della protezione civile e quella della polizia locale, alla gestione appunto di situazioni abbastanza impegnative, come appunto quella legata al massiccio esodo di cittadini, ovviamente provenienti dalle città del Nord Africa, che abbiamo ospitato presso la caserma dei Carolis, e quella che è stata ovviamente la quotidianità appunto legata alla gestione del corpo della polizia locale. Ovviamente questi due aspetti sono stati quelli che mi hanno visto più impegnato sotto il profilo personale, ma sono anche quelli che mi hanno dato più soddisfazioni. Ho avuto modo di confrontarmi con delle realtà molto difficili, ovviamente sotto il profilo umano, anche appunto che hanno toccato la mia sensibilità proprio di uomo, vedendo ovviamente bambini, donne in grande difficoltà sopravvivere in questo centro di accoglienza, che poi fu appunto la caserma dei Carolis, hanno in me scaturito ovviamente molte sensazioni, tra le quali ovviamente quella veramente di confrontarci con una realtà che poi è così, sembra così lontana ma poi è così vicina alla nostra. E lì ho potuto formare la mia persona, lavorando al fianco di importanti istituzioni e di persone appunto che sono state alla Croce Rossa, la stessa protezione civile, i vigili del fuoco, e che ovviamente ringrazio per la grande disponibilità, e ho potuto fare un'esperienza umana credo importantissima. Sotto il profilo della polizia locale ci siamo impegnati per dare alla città ovviamente la sicurezza sotto quello che è il profilo della competenza della polizia locale. È evidente che la polizia locale cittadina svolge dei compiti che sono quelli di supporto alle forze dell'ordine, per cui noi non facciamo e lo chiariamo ovviamente a tutti i cittadini né ordine pubblico né quelli che sono gli interventi legati appunto e che sono di competenza del commissariato. Ma noi svolgiamo un'attività, ripeto, sempre di collaborazione e ci occupiamo di quello che è appunto la parte istituzionale. È evidente che il sottoscritto ha voluto in questi due anni e mezzo da assessore mettere in campo delle azioni affinché anche il corpo dei vigili urbani, oggi denominato polizia locale, potesse divenire appunto attraverso un procedimento amministrativo istituzionale un corpo operativo. Per fare questo sto lavorando per dare seguito appunto all'armamento del corpo dei vigili urbani. Ricordiamo che per fare questo bisognerà attendere il consenso non solo dei vigili stessi ma anche del Consiglio Comunale. E io spero di riuscire entro questo mese, per cui prima della fine del mandato, di portare all'attenzione del Sindaco e della maggioranza appunto questo procedimento che dovrà essere approvato nel prossimo mandato. Per questo chiedo ai cittadini e anche in questo senso di darmi fiducia per poter portare avanti questo percorso. Le altre deleghe che ho seguito con maggiore attenzione sono quelle ovviamente legate al patrimonio comunale, al diportismo, alla nautica e al mare in genere. Quello è il settore che io prediligo ovviamente, è il settore per il quale il Sindaco Moscherini ha voluto appunto consegnarmi le chiavi di questo assessorato al mare, che all'inizio fu attaccato da tutta l'opposizione e quando appunto lo realizzammo insieme al Sindaco Moscherini tutti si chiesero a che cosa potesse servire nella nostra città questo assessorato al mare. Credo di aver dato la dimostrazione, lo dico anche con un po' di superbia, ma lo dico perché ci ho lavorato veramente con grande passione e continuerò a farlo. Appunto dicevo, credo che questo assessorato abbia sancito un percorso indispensabile per la nostra città e per il nostro territorio. Abbiamo dato seguito alla riqualificazione della pinita della Frasca, cosa che non era mai avvenuta nel percorso appunto delle passate amministrazioni e negli anni precedenti. La Frasca quando io l'ho ereditata così com'era, ricordando che è patrimonio della regione Lazio e non è proprietà comunale, versava in uno stato di completo abbandono e degrado. Noi ci siamo dati da fare, ci siamo rimboccati le maniche, senza far spendere un euro alla collettività grazie all'impegno e al supporto di Enel, S.P.A. e dei tanti operatori volontari che hanno voluto darci una mano, siamo riusciti a consegnare alla città una pinita fruibile e pulita con delle realizzazioni ecocompatibili come quelle famose straccionate, questi dissuasori di altezza che comunque hanno generato veramente delle situazioni appunto per le quali all'interno della Frasca oggi non si può in nessuna maniera più andare a scaricare materiali appunto inquinanti come purtroppo si faceva fino a poco tempo fa e chiunque la vuol vivere, questa pinita la può vivere nel massimo della serenità. Abbiamo dato seguito a molti interventi che riguardano il mare stesso, ci siamo pregiati di porre appunto sul fondale marino una statua che abbiamo voluto denominare la Madonna del Mare, ricordiamo tutti che appunto in questa cerimonia venne anche la Polverini, il Presidente della Regione Lazio, abbiamo posizionato questa statua sui fondali marini di Civitavecchia antistante ai marinai d'Italia e l'abbiamo voluta dedicare a tutti i marinai e tutti i pescatori scomparsi appunto tragicamente. Noi a Civitavecchia purtroppo abbiamo un elenco pesante di ragazzi giovani che sono scomparsi in mare, dall'altro anche i miei amici e a loro io ho voluto dedicare insieme all'amministrazione questo pensiero sapendo di fare sicuramente una cosa gradita per la collettività. Ovviamente l'attività del demagno marittimo non è soltanto posizionare una statua sott'acqua ma è stato un percorso importante che ci ha portato finalmente all'approvazione del PUA. Il PUA per chi non lo sa lo ricordiamo è una sorta di piano regolatore generale che prevede e dà la possibilità al Comune stesso di poter rilasciare in maniera definitiva e stabile le cosiddette concessioni demagnali. Tutti ricordano che Civitavecchia purtroppo ha potuto gestire ed affidare quelle che sono le spiagge comunali per cui il Pirgo, la Marina, il Marangone e qualche altro piccolo tratto sul territorio appunto affidarlo solo ed esclusivamente nel regime di gestione dei servizi estivi balneari. Questo ha comportato che gli imprenditori ovviamente che hanno fatto investimenti hanno potuto appunto limitare questi investimenti stessi realizzando delle strutture che poi andavano smontate a fine stagione. Ovviamente con questo PUA oggi noi attraverso l'applicazione del dispositivo della gara pubblica saremo messi nelle condizioni di poter affidare definitivamente queste spiagge. In questa maniera ovviamente intendiamo rilanciare quello che è il turismo balneare e questo è sostanziale. Grande attenzione da parte del sottoscritto ovviamente è stata data a quelle che sono già le concessioni dei maniali preesistenti e abbiamo messo in piedi un sistema operativo appunto che darà la possibilità ai gestori appunto già titolari di concessioni dei maniali di poter portare avanti un ragionamento condiviso con l'amministrazione per riqualificare ovviamente e far crescere anche le proprie attività. Per quanto riguarda le operazioni sempre come De Magno Marittimo ci siamo dati molto da fare anche sulle manutenzioni. Sono in partenza tra circa dieci giorni opere di manutenzione su Piazza Betremme, su quello che è il piccolo paradiso che tutti conoscono, che è un tratto di mare di Civitecchia, di costa di Civitecchia che ha accessibilità dietro lo stadio comunale che però per i Civitecchia è sempre rappresentato un punto storico ed importante ebbene noi attraverso dei fondi che io sono riuscito a reperire attraverso il bilancio comunale stiamo partendo con un'opera di riqualificazione generale dei luoghi. Metteremo a posto anche quella stadina che porta a mare dalla parte della punta del Pecoraro, anche lì è una zona abbandonata e dismessa e interveremo su Via Mascagni che sarebbe praticamente quella parte di Scarpata che è a sinistra della Lega Navale. Darò seguito alla conclusione di alcune opere anche sulla Marina, sulla parte proprio di Magnale per far sì che vengano messe in sicurezza anche quest'area che è storica per la città. Tutti poi mi hanno conosciuto e spero abbiano potuto apprezzare per il posizionamento della statua alla Marina, quella importante statua che anche quella inizialmente fu criticata perché qualcuno ci addossò la responsabilità di aver portato a Ciechia una realizzazione monumentale che non era del nostro territorio ma era straniera. E anche lì io poi alla fine le ho spuntate perché è divenuta uno dei motivi di attrazione di Piazza degli Eventi, proprio perché aver portato a Ciechia una statua che in buona sostanza rappresenta la resa incondizionata tra il Giappone e gli Stati Uniti alla conclusione della Seconda Guerra Mondiale, vuol dire secondo me aver portato a Città Vecchia un simbolo internazionale, un simbolo comunque di pace internazionale riconosciuta in tutto il mondo che lo ricordiamo è già stata esposta in tantissime importanti città internazionali. Ovviamente non mi sono fermato qui ma ho voluto dare seguito a tanti interventi anche sul patrimonio comunale. Non solo abbiamo finalmente informatizzato tutto quello che era un sistema patrimoniale, un sistema appunto di archivio patrimoniale che era cartaceo, l'abbiamo portato appunto sui PC, oggi è informatizzato per cui qualsiasi cittadino volesse in qualche maniera trarre delle informazioni lo può fare finalmente tramite computer, cosa che invece prima veniva fatta a mano. Ma credo che una delle più grandi soddisfazioni da assessore al patrimonio sia stata quella finalmente di poter dare seguito alla procedura di affidamento dei parchi cittadini. I parchi cittadini anche questi sono stati vittima ovviamente di un attacco ingiustificato da parte delle opposizioni che hanno voluto far credere ai cittadini stessi che in qualche maniera il sottoscritto avesse voluto o avesse intrapreso un'operazione per svendere il patrimonio comunale. Bene, io voglio chiarire ai cittadini che non è assolutamente così perché i parchi cittadini rimangono sempre di proprietà del comune per cui di libera fruizione di pubblico utilizzo ma ne vengono affidati attraverso ovviamente la procedura della concessione di lavori pubblici la gestione a privati. Ovviamente questi privati avranno l'onere non solo di gestire quella che è la parte immobiliare del parco per cui in buona sostanza l'eventuale pizzeria o l'eventuale ristorante che verrà creato all'interno del parco stesso o che verrà manutentato, ma avranno l'onere di garantire la manutenzione del parco stesso compreso il verde e tutti quelli che sono per esempio le varie infrastrutture che ne sono all'interno. Ricordiamo ovviamente che dentro ogni parco c'è i giochi per i bambini, ci sono le piste di pattinaggio e verranno predisposti anche dei sistemi di videosorveglianza e di illuminazione. Questo perché? Perché è evidente che un'amministrazione pubblica non può assolutamente farsi carico della gestione e della manutenzione di un parco cittadino che di fatto è dei costi esagerati. L'abbiamo già vissuta, l'abbiamo purtroppo riscontrata nelle passate amministrazioni, anche se con buona volontà si è cercato di gestire questi parchi purtroppo ad oggi bisogna dire la verità che gli stessi versano in condizioni drammatiche e la spesa è enorme. Con questo procedimento noi in tempi brevi, già le gare sono partite, realizzeremo sui maggiori parchi, sui principali parchi cittadini, per cui lo Iuri Spicarelli, il parco dell'Ulileto e il parco della Resistenza, realizzeremo dei parchi moderni senza infrastrutture che possano in qualche maniera impedire anche l'ingresso ai portatori di handicap, per cui un parco moderno con infrastrutture moderne. Ovviamente tutto gratuito per i cittadini? Assolutamente sì, ovviamente sarà sempre tutto gratuito perché lo ripetiamo i parchi saranno aperti, i gestori avranno solo obblighi e pochi piaceri e poche agevolazioni da parte dell'amministrazione. Bene, il tempo a nostra disposizione è terminato, ringrazio l'assessore e il candidato al Consiglio Comunale Andrea Pierfederici e ringrazio anche i nostri telespettatori e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie 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 Grazie